20 settembre, mercoledì, Sant'Eustachio soldato e martire, 1870, entrata delle truppe italiane in Roma, 1897, nascita di Giannino. Ecco fatto. Ho voluto ricopiare qui in questo mio giornalino il foglietto del calendario d'oggi, che segna l'entrata delle truppe italiane in Roma, e che è anche il giorno che son nato io, come ci ho scritto sotto, perché gli amici che vengono in casa si ricordino di farmi il regalo. Ecco intanto la nota dei regali avuti finora. Primo, una bella pistola da tirare al bersaglio che mi ha dato il babbo. Secondo, un vestito a quadrettini che mi ha dato mia sorella Ada, ma di questo non me ne importa nulla, perché non è un balocco. Terzo, una stupenda canna da pescare con la lenza, e tutto l'occorrente è che si smonta e diventa un bastone, che mi ha dato mia sorella Virginia. E questo è il regalo che mi ci voleva, perché io vado matto per la pesca. Quarto, un astuccio con tutto l'occorrente per scrivere, e con un magnifico lapis rosso e blu, regalatomi da mia sorella Luisa. Quinto, questo giornalino che mi ha regalato la mamma, e che è il migliore di tutti. Ah, sì, la mia buona mamma me ne ha fatto uno proprio bello, dandomi questo giornalino perché ci scriva i miei pensieri e quello che mi succede. Che bel libro! Con la rilegatura di tela verde e tutte le pagine bianche che non so davvero come farò a riempire. Ed era tanto che mi struggevo di avere un giornalino mio dove scriverci le mie memorie, come quello che hanno le mie sorelle Ada, Luisa e Virginia, che tutte le sere, prima ad andare a letto, coi capelli sulle spalle e mezze spogliate, stanno a scrivere delle ore intere. Non so davvero dove trovino tante cose da scrivere quelle ragazze. Io invece non so più che cosa dire. E allora come farò a riempire tutte le tue pagine bianche, mio caro giornalino? Mi aiuterò con la mia facilità di disegnare. Però, in un giornalino bello come questo, bisognerebbe metterci dei pensieri, delle riflessioni. Mi viene un'idea. Se vi copiassi qui un po' del giornalino di Ada, che giuste fuori insieme alla mamma a far delle visite... Ecco qui. Sono andato su in camera di Ada, ho aperto la cassetta della sua scrivania, le ho preso il suo giornale di memorie, e ora posso copiare in pace. Oh, se quel vecchiaccio del Capitani non tornasse più! E invece è venuto anche stasera. È impossibile, non mi piace, non mi piace e non mi piacerà mai, mai, mai. La mamma ha detto che è molto ricco, e che se mi chiedesse in moglie dovrei sposarlo. Non è una crudeltà questa? Povero cuore mio, perché ti mettono a tali torture? Egli ha certe mani grandi e rosse, e col babbo non sa parlare d'altro che di vino e di olio, di campi, di contadini e di bestie. E se lo avessi veduto almeno una volta vestito a modo? Ah, se questa storia finisse, se non tornasse più! Mi metterei l'anima in pace. Iersera, mentre l'accompagnavo all'uscio, ed eravamo soli nella stanza d'ingresso, voleva baciarmi la mano. Ma io fui pronto a scappare, e rimase con un palmo di naso. Ah, no! Io amo il mio caro Alberto de Renzis. Che peccato che Alberto non sia altro che un misero impiegatuccio. Mi fa continuamente delle scenate, e io non ne posso più. Che delusione! Che delusione è la vita! Mi sento proprio infelice. E ora basta, perché ho impito due pagine.